SOS, rate da pagare. In Italia e in Calabria c'è un problema chiamato indebitamento. Aumento del costo del denaro, incremento dei tassi e corsa dell'inflazione stanno riducendo il reddito dei cittadini, in difficoltà a rispettare le scadenze mensili di mutui e prestiti. L'allarme arriva dalla Fabi, il sindacato dei bancari. I crediti deteriorati delle famiglie sono arrivati a marzo a quasi 15 miliardi, 3,7 di credito al consumo non rimborsato, 4,3 relativa da retrati di altri prestiti personali e ben 6,8 miliardi per i mutui non pagati. Cifre importanti ma il futuro prossimo preoccupa ancora di più perché i mutui erogati dalle banche hanno sfondato quota 425 miliardi con un terzo del totale composto da quelli a tasso variabile. Una situazione che si riflette anche in Calabria, qui il totale delle rate non pagate arriva a 418 milioni con l'incubo rappresentato proprio dal rialzo del variabile aumentato rispetto al 2022 di oltre il 50%. L'inalzamento dei tassi operato dalla BCE nell'ultimo anno è sicuramente un dato che ci allarma, ci allarma in linea generale, ci allarma ancora di più per quello che riguarda le famiglie calabresi che versano sicuramente una situazione di maggiore povertà rispetto a quelle del resto del paese. Vedersi innalzata una data del mutuo in maniera così importante evidentemente ha un impatto non di poco conto sul bilancio familiare. In campo per tamponare la situazione Abbi e Governo con la Fabi che chiede maggior cautela sui tassi alla Banca Centrale Europea auspicando un ripensamento sul rialzo annunciato per il prossimo 27 luglio. Ci sono delle opportunità che vengono date. Da un lato può essere l'allungamento del piano d'ammortamento del mutuo e quindi aumentare la durata del mutuo potrebbe portare come conseguenza appunto la riduzione della rata stessa. Così come praticamente la surroga potrebbe essere un'altra opportunità, così come una eventuale rinegoziazione del debito col proprio istituto di credito per poter tentare di modulare e quindi di rendere più accessibile il pagamento delle rate appunto in questione.